E qua iniziamo con la parte davvero sull'intelligenza artificiale. A new concept, che è il titolo della nostra lezione, of creativity, punto di domanda. Primo dubbio amletico, is creative activity an exquisitely human or maybe divine matter? Per chi ci crede ovviamente, la creazione può essere solamente umana o divina? Perché il dubbio anche filosofico era quello, che ci distingueva dalle macchine e il fatto che eravamo creativi. Avete presente il film, sicuramente, I Robot, Your Robot, con Will Smith. Quando Will Smith si confronta per la prima volta con il robot che lui sta arrestando, usa due cose per dire tu sei solo una macchina, sei una lattina, sei una replica della vita, non sei la vita vera. Ha due concetti. Uno, non sei in grado di creare una sinfonia, un'opera d'arte emozionante. E due, non puoi sognare. E la macchina, sonni, gli risponde, no ma io ogni tanto sogno. Punto primo. Anzi, scusate, prima gli dice io sogno, allora lui per controllare gli dice, no ma tu non puoi sognare. Tu sei una macchina, non sogni, sono gli esseri umani che sognano. E soprattutto tu non puoi creare cose, non puoi creare una sinfonia. E la macchina gli risponde, ah perché lei detective è capace. E lì c'è la faccia di Will Smith ghiacciata per dire, allora forse nemmeno io. Ok, andate a vedere questa scena perché infatti è diventato il claim iniziale del mio libro. Beastly, fra virgolette, but enlightened precedent, cioè precedenti bestiali ma illuminanti. Perché? Perché della creatività non umana in realtà era un problema che ci eravamo già posti da tempo. Non so se conoscete queste storie, soprattutto il macaco ha creato dibattito nella comunità di Wikipedia, dei progetti Wikimedia, perché questa è una foto fatta dal, scusate fatta, diffusa dal fotografo Slater, che è un fotografo abbastanza importante, naturalista, importante, che fa documentari e foto di animali molto belle. E questa è la prova, lui l'ha definito il primo selfie animale della storia. Il primo selfie animale della storia, perché possiamo dire che è il monkele che è trattando la fotocamera. Ok? E sembra che sta sorridendo, non so se sta davvero sorridendo perché sta mostrando i denti, però... E qual è il problema? Che Slater si è dato una zappa sui piedi dicendo sta cosa, perché dicendo sta cosa ha dimostrato, ha dichiarato al mondo che l'opera non l'aveva fatta lui, l'aveva fatta un animale. E nel copyright act americano c'è una norma molto chiara che dice che gli animali non possono essere titolari di diritti d'autore. In generale non potrebbero nemmeno essere titolari di diritti, però insomma... Parliamo, mi fermo al mio campo, e il diritto d'autore è un diritto che nasce con l'atto creativo, con la creatività, l'animale non può essere consapevole di fare una creazione, semplicemente ha giochicchiato con una macchina, ed è una, diciamo, affascinante coincidenza che sia stata scattata la foto. Slater non l'ha presa molto bene, perché? Perché ovviamente la sua foto è iniziata a girare su tutte le piattaforme liberamente, con scritto pubblico dominio sotto, e gli dice ma come pubblico dominio? Mi sono fatto un mazzo così, il labor, quello che dicevamo prima, mi sono fatto un mazzo così per mettere la videocamera, ho stato lì di notte a trovare il posto giusto in cui passavano i macachi, ho pagato la licenza per avere l'accesso al parco nazionale in cui ho fatto sta cosa, e voi mi prendete questa mia foto e la diffondete in giro. Ancora adesso non l'ha digerita questo fotografo, ma c'è una sentenza che gli ha dato torto, quindi effettivamente opere create dagli animali, e c'era già prima il caso, perché questo è più recente, ma ancora prima, questa è del 2014, la sentenza del macaco, ma ancora prima c'erano gli elefanti che facevano disegni, ma anche c'è un maiale, Pig Casso, famoso, e le cui opere sono state vendute, è tutto raccontato nel mio libro, le cui opere sono state vendute all'asta, è un maiale a cui l'hanno addestrato a fare sta cosa, gli mettono in bocca un pennello, e lui effettivamente gioca col pennello sulla tela, e lei tira fuori delle cose che a volte sembrano davvero delle opere di arte contemporanea che trovi in qualche galleria d'arte un po' sperimentale, e ci sono i video di questo maiale che fa l'opera, e poi ti vendono, visto che è documentato che quella roba lì l'ha fatta tutta il maiale, se vuoi ti vendono anche il quadro, e alcuni sono saliti di valore, quasi più di opere umane, e quindi il problema esisteva già, però non c'è copyright, quindi il maiale ha fatto l'opera, viene venduta, tu hai il pezzo originale, puoi sfruttare la crescita di valore sulla singola opera, ma non hai un copyright, cioè sulle riproduzioni, non hai un diritto sulle riproduzioni. Ecco, scusate, Copyright on Animal Made Works, as I already said, the Copyright Office already clarified the matter in its compendium, it is not the US Copyright Act, it is the compendium released by the Copyright Office practice, quindi una sorta di documento orientativo, noi le chiameremmo linee guida forse, del Copyright Office americano, che dice, the Copyright Act protects original works of authorship, quindi il lavoro originale di autorealità. To qualify as an original work of authorship, the work must be independently created and must contain some minimum amount of creativity, quindi deve essere creato indipendentemente con una scelta autonoma, lì l'animale è messo addestrato, gli mettono in bocca il pennello, quindi non è una sua scelta autonoma di fare opere, idem la scimmia, and some minimal amount of creativity, la minima presenza di carattere creativo, diremmo più propriamente in italiano. The US Copyright Office will not register works that do not satisfy these requirements. The US Copyright Office, questo salta di un po' e vado ad un altro paragrafo, will not register works produced by nature, animals or plants. Anche nature, nel senso, conoscete quel, c'è un'opera, un'installazione di un artista che è una sorta di organo in Croazia che suona sulla base delle onde, gli entra l'acqua e produce dei suoni, non è vera musica, però essendo, avendo messo queste bocchette che suonano in una scala armonica, sembra che siano gradevoli, è come l'armonica bocca, avendo tutte note che sono sulla pentatonica, anche se uno non la sa suonare, tira fuori una cosa che comunque è accordata. Ok, lì è il mare a farlo però, ma non è che il mare ha il copyright. C'è il copyright dell'autore dell'installazione, ma sull'installazione e non sui suoni che essa produce. Chiaro? Questo è un altro interessante, diciamo, provo, perché due persone, un uomo e un uomo, un uomo, hanno cercato di hack la legge copierata in campo di musica. Il nuovo strumento genera ogni possibile melodia per il domenico pubblico. Cioè, cosa hanno provato a fare questi? Con un software, hanno provato a creare miliardi di combinazioni di note, quindi non solo le 7 e più 5 note, le 12 note, ma anche le durate delle varie note, per cui loro dicono tutto ciò che si può creare l'abbiamo già creato noi. E questo brucia, diciamo, l'originalità, scusate, brucia il piano della novità. Perché loro dicono è già, sul nostro database c'è già qualsiasi brano musicale che tu potrai scrivere è già stato scritto dal nostro software. Ovviamente è una provocazione, io lo scrivo lì, actually, copierata in music work è un problema più complesso perché you have to look also on the complete expression of the music, cioè la percezione generale che ha del brano musicale, non basta la linea melodica. ok? So, also the rhythm, the sound, ok? But this is an interesting provocation perché effettivamente hanno fatto vedere con la tecnologia di oggi neanche così avanzata è possibile dire a un software di mettere insieme tutte le combinazioni di note possibili in modo tale che a un certo punto chi scrive troverà qualcosa che è già stato scritto in precedenza, bruciando un po' l'effetto novità. Ma qua non siamo ancora a un livello di intelligenza artificiale perché lì insomma c'era una programmazione da parte di due persone dietro, arriviamo invece in un mondo quello di oggi in cui è l'intelligenza artificiale a fare buona parte del lavoro e parliamo di generative AI. Where is the real innovation? L'ho già detto, AI systems capable of carrying out systematic and massive tasks had already been widespread for some time, cioè da tanto tempo, and had already entered in common use. Quindi, qui ho cercato una po', io usavo in italiano in questa slide compilativo, compiti compilativi, che sembra ricorsivo però fa capire, cioè sistemi automatizzati che svolgevano compiti compilativi, organizzavano cose in modo compilativo, c'erano già, non ci stupivano neanche molto, è che qua stanno facendo cose che invece sono più creative che compilative, che meramente sistematiche compilative o massive. But now, I mean also, we are also able to create works that are creative and, scusate, I am, ho sbagliato, they are also able to create works that are creative and in many cases are indistinguishable from human-made works, cioè sono indistinguibili da quelle create dall'uomo. Cioè, se tu mi metti un'immagine creata da lì o con mid-journey è l'immagine creata da un grafico che ha lavorato col vecchio sistema, cioè con Photoshop o con qualche altro software, ad oggi non so bene distinguere. Sì, posso capire che una sia fatta sia più bella, sia più raffinata dell'altra, ma magari semplicemente perché quel grafico non è capace, non è particolarmente attrezzato, esperto. Quindi questo inizia ad essere il problema, come anche i testi narrativi, è difficile distinguere, quindi torniamo al test di Turing, che Turing diceva quando cominceranno a fare delle cose che statisticamente non riusciamo più a distinguere dall'essere umano inizieremo a parlare di qualcosa che veramente è intelligenza artificiale, è qualcosa che si è avvicinata al livello dell'intelligenza umana. And soprattutto, above all, now these tools are available to everyone. They do not require particular technical skills and speak our language. Secondo me questa è la grande innovazione degli ultimi mesi, cioè quelle robe lì c'erano già, che i deepfake sono anni che ci sono che si possono fare. Il fatto è che adesso c'è l'applicazione che ti metti davanti al cellulare, parla in italiano e lui ti fa uscire il video in francese, come ha fatto un noto politico la settimana scorsa, che in effetti era impressionante. E sta cosa è effettivamente fighissima per chi fa come il mio lavoro di divulgazione, poter avere una lezione in cui io parlo la mia lingua e lui mi butta fuori il testo di là in inglese, muovendo la mia bocca in modo così credibile e ripeto, un team di effetti speciali di Hollywood, lo poteva fare anche vent'anni fa quella roba lì, però ci volevano ore di lavoro di tante persone, adesso ci vuole un minuto con un tastino a schiacciare, la grande rivoluzione è lì, è nel fatto che they are now available to everyone. Ecco, questa è una foto che io ogni volta uso come punto di partenza perché la creatività, creativity mediated by the machine is an historic problem for corporate law. Quindi, il problema della creatività che passa da una macchina è, il diritto d'autore se la porta dietro da anni, da secoli, perché come vedete here we are talking about something at the end of the 19th century, okay, at the end of 1882. Here's Oscar Wilde number 18, a photo portrait taken by the American photographer Napoleon Cironi and this subject of a dispute in one of the most interesting judicial cases in the history of copyright law. Okay, you can look at on Wikipedia is Boroges litographic versus Cironi. Perché è così interessante? Perché è stata la prima volta in cui il diritto d'autore si è scontrato con qualcosa che non era fatto dall'essere umano con le sue mani ma attraverso una macchina, cioè la fotografia. E una cosa che era diversa perché una fotografia non è come fare un quadro. Un quadro richiede competenza, sbattimento, tutto quello che è, è originalità e tu rappresenti quello che stai vedendo anche sulla base di come tu hai imparato a dipingere. La fotografia è più oggettiva, faccio una foto e quindi io sto riproducendo la realtà di quella cosa che ho davanti, di quello personaggio, di quel panorama, di quel fatto di cronaca e quindi la difesa se volete leggere questa sentenza, la difesa di Barrow Geese litografiche che era una casa editrice potremmo dire, all'epoca erano più stampatori che editori, che voleva riprodurre liberamente questa foto di Oscar Wilde per le sue pubblicazioni e per i suoi giornali dice ma io perché devo dare un diritto d'autore a Saroni quando in realtà il lavoro l'ha fatto una macchina? La difesa era quella. È stata la macchina fotografica a creare l'immagine e Saroni non ha fatto nulla. Al massimo potremmo parlare di un diritto di Oscar Wilde che è ritratto nella foto ma non è un diritto d'autore è un diritto d'immagine è un'altra cosa che è quello di cui parlano Keira Knightley e Bruce Willis in questi giorni. Ma la creazione chi l'ha fatta? L'ha fatta la macchina quindi che caspita vuole questo Saroni da me? E perché è innovativo? Perché lì è stata la sentenza in cui per la prima volta un giudice importante una corte suprema dice no. Saroni ha scattato la foto e quindi ci ha messo del suo e quindi se l'avesse scattata qualcun altro la foto sarebbe uscita diversa e quindi c'è carattere creativo c'è originalità perché? Perché Saroni ha non solo fotografato una cosa che esiste in natura nella realtà ma ha fatto in modo che Oscar Wilde fosse seduto in un certo modo che mettesse la mano così che ci fosse un'espressione del viso che fosse vestito in un certo modo che ci fosse uno sfondo e che ci fosse una sfumatura generale le luci messe in un certo modo questa per noi giudici della corte è creatività e da lì si è aperto un mondo perché da lì in poi la creatività è sempre stata sempre più mediata dalla macchina capite? è sempre più medieted non so se in inglese usano molto medieted però me l'hanno data come traduzione by the machine tutto ciò che facciamo oggi è mediato dalla macchina non c'è più nessuna creazione i pittori ancora si salvano gli scultori però la creatività di cui parliamo a parte che anche i pittori poi vanno a finire nei cataloghi delle mostre e vengono riprodotti in modo fotografico ok? però è stata molto rivoluzionaria ma ci fa capire che il dibattito che facciamo oggi sull'intelligenza artificiale se è creativa o non creativa in realtà l'hanno già fatto 140 anni fa capite? in modo molto diverso in un mondo diverso però le stesse domande sono quelle sono le stesse più o meno che si erano poste un altro esempio è la musica elettronica dei primi anni 90 non la musica elettronica suonata con strumenti elettronici la musica quella programmata al conservatorio c'è il corso di programmazione musicale no? che vuol dire che cosa? vuol dire che io suono creo un brano musicale e lo faccio suonare senza mettere le mani su nessuno strumento perché? perché c'è un bellissimo software un Cubase o qualche altra cosa che mi permette di avere su una schermata tutti gli strumenti che sono ormai così credibili per cui non so più se quello lì è un batterista vero o se è una cassa o se è un sequencer e la musica non è suonata è programmata viene fuori il brano musicale e tutta la musica dance house tecno viene fuori così e se voi andate all'inizio degli anni 90 ci sono i dibattiti dei vari musicisti che dicono quella roba lì non è vera musica perché non è suonata ma è fatta con col software è fatta con le macchine ok? quindi stiamo tornando su un sentiero che a noi sembra così nuovo ma che in realtà in forme diverse era già stato battuto grazie